Sono stati consegnati con una cerimonia simbolica nuovi autobus elettrici per implementare il servizio dei trasporti pubblici. La consegna questa mattina a Salerno da parte del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. I mezzi sono 62 e copriranno l'intero territorio regionale. 15 di essi invece saranno utilizzati a Salerno e provincia. E' uno sforzo straordinario che stiamo facendo come regione per rinnovare tutto il parco dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e su ferro. Per quanto riguarda gli autobus abbiamo in produzione 1300 autobus nuovi, ne abbiamo consegnati già il 60%. Oggi consegniamo 60 autobus, cominciamo qui da Salerno e a Salerno mettiamo su strada i primi autobus elettrici della regione Campania. Ne abbiamo credo una quindicina per il comune di Salerno, altri 5 per il comune di Avellino, più gli altri mezzi. Credo che sia veramente un bel segnale, non solo di rinnovamento del trasporto pubblico locale ma anche di efficientamento energetico. A Salerno in particolare il comune sta organizzando lo spostamento degli autobus a lunga percorrenza da Piazza e la Concordia dove si fermano creando un tappo, una barriera che determina traffico lungo tutto lungo Mare Trieste a Via Carella, cioè il parcheggio che è dopo il Grand Hotel Salerno dove ovviamente non si dà fastidio a nessuno, si collocheranno lì due colonnine elettriche e si sta facendo uno sforzo importante per rinnovare il trasporto pubblico locale. Credo che più di questo sia impossibile fare con le risorse che arrivano oggi al sud.